il leadership prende il posto del vecchio punto 5 responsabilità della direzione responsabilità della direzione è la traduzione di management responsibility ma management responsibility vuol dire una roba diversa da responsabilità della direzione ovvero siccome la norma è una norma in grosso non ragiona per proprietà mentre invece noi quando pensiamo a direzione pensiamo a proprietà la norma pensa a management come quel gruppo di persone capitanate da una direzione che porta avanti gli interessi dell'azienda e quindi quando parlava di management responsibility era la responsabilità che aveva quella direzione con quel management di portare avanti gli scopi dell'azienda per rafforzare il concetto hanno fugato il dubbio del management e hanno messo il leadership che rispetto al management è una roba abbastanza diversa perché chiama in campo il leader dell'azienda e qua potrebbe essere davvero la proprietà piuttosto che un incaricato della proprietà che è in grado di svolgere il ruolo di leader all'interno dell'azienda sta di fatto che questo signore è uno che assicura la compatibilità della politica agli obiettivi era anche prima ma deve soprattutto dimostrare la propria leadership nell'area di propria responsabilità è un impegno pesante e mentre lo dico mi vieno a pensare a questi benedetti auditori che vengono in azienda come fa a venire a sindacare che la mia direzione non sia un leader no? magari ha anche ragione nessuno che manda a cosa lo capisci no? non è che c'è una norma che dice come deve essere fatto il leader tuttavia questa norma qua ha tutte le ragioni del mondo cioè il leader dell'azienda è quella persona che con il suo gruppo no? quindi non neanche con tutta l'organizzazione ma che con il suo staff cerca di fare del suo meglio per ottenere dei risultati all'interno dell'organizzazione e nel fare questo supporta le persone a contribuire nell'efficacia del sistema quindi tra le sue preoccupazioni invece è fornire alle risorse tutto quello che serve perché loro possano dargli una mano per conseguire lo scopo dell'organizzazione credo che concettualmente sia enorme dal punto di vista della pratica io spero di parlare con le direzioni e come dire di fargli passare questo concetto qua per noi come studio è abbastanza naturale perché vi ho detto prima di inizio del tutto che è anche la nostra missione quella di supportare le persone nel fare le loro cose quindi è dove noi possiamo andare a dare una mano no? però noi abbiamo una per l'altra una settantina di aziende che seguiamo non posso dire di avere tutti i leader uguali o tutte le direzioni uguali o tutte le persone uguali ci sono anche delle proprietà delle direzioni nominate direzioni in cima agli organigrammi che di fatto delegano questo tipo di missione al loro responsabile più vicino più caro e loro so e quella è la leadership ma allora a me non costa niente dal punto di vista organizzativo ti risconta tu sei la proprietà quindi colui sei parte interessata sei quello che vuole avere dei risultati all'azienda dagliela in mano al tuo leader e fagli capire bene quali sono le cose che tu vuoi e poi lascia che lui guidi l'azienda perché di lui è il fiducia quindi non necessariamente come eravamo abituati in cima all'organigramma c'è la proprietà e lui è il manager responsabile di direzione con questa norma qua noi possiamo scegliere il vero leader dell'azienda e da il mandato per trascinare l'azienda per portare l'azienda laddove vogliamo che ottenga che sono in grittà che parte di riusci che apparsi ma il concetto è tutto l'aria importante nel suo insieme